Questo era il primo grafico che mi è stato segnalato, questa è in realtà la pagina web che contiene il grafico reale, ovviamente interattivo. Allora, se andiamo a leggere nella pagina Slack i commenti, adesso riapro anche l'altra pagina. Allora, dato questo grafico sostanzialmente alcuni commenti si focalizzavano sostanzialmente sul fatto che mancasse una leggenda, non si capisse bene il significato tra le bolle nere e le bolle bianche e sostanzialmente c'è un po' di confusione tra i vari elementi. Allora, problemi audio, ci sono ancora un po', l'audio immagino posso andare avanti un po' a scatti, spero che migliori leggermente, credo sia un problema di connessione. Ok, quindi è un po' non uniforme il problema. Ok. Allora, tornando al nostro diagramma, quello che vi sto facendo vedere, io cerco di parlare lentamente in modo che anche a scatti si possa un po' ricostruire quanto sto dicendo. Allora, effettivamente, osservando questo grafico, proviamo a farlo in maniera strutturata, quindi andando a valutare i tre aspetti fondamentali, quelli di proporzionalità, utilità e chiarezza. Vado sulla Virta Classum e vediamo se riusciamo con le note condivise a farlo in maniera strutturata. Quindi, mappa, quindi sole 24, lab 24, proporzionalità, utilità e chiarezza. Ok, per quanto riguarda la proporzionalità, le bolle che noi vediamo sono proporzionali. Proviamo ad avvicinare un po' perché così è veramente difficile andare a valutarlo. Andiamo a vedere un paio di casi. Prendiamo, che so, Alessandria con 760 e Milano con 5000. Quindi, sostanzialmente, Milano dovrebbe essere sette volte, circa sette volte, Alessandria in termini di dimensione. Questo rapporto, riusciamo a osservarlo in termini di bolle? Diciamo che è difficile dirlo, nel senso che è difficile andare ad affermare che quelle due bolle hanno un rapporto di 1 a 7. Quindi, la proporzionalità, diciamo che, approssimativa, ma per problemi, diciamo, di percezione. In generale, tutte le volte che noi andiamo a confrontare delle aree, non riusciamo ad avere una valutazione precisa del rapporto tra i due valori. Un aspetto che, invece, è relativamente poco proporzionale è quello che possiamo andare a vedere osservando le bolle nere, perché qui abbiamo il dato regionale di morti rispetto ai contagiati che abbiamo qua. Quindi, 3400 e 5000, questi due sembrano in proporzione, resta il problema che è difficile capire che cosa rappresenta cosa. Abbiamo i colori qua delle due etichette che ci potrebbero andare a dare una guida, però non è immediato. Questo però non è un problema tanto di proporzionalità quanto piuttosto di chiarezza. Quindi, in termini di chiarezza, è difficile associare immediatamente il significato di bolle rosse e nere. Poi, in questo diagramma, si legge abbastanza, se andiamo a vedere quello che era originariamente stato postato qua su Slack, quindi questa immagine, ecco qua, è decisamente peggio e non si legge, poi ci sono delle tracce. Questo, tra l'altro, non essendo interattivo, è estremamente difficile da leggere. Qui abbiamo il vantaggio dell'interattività, quindi andando sopra riusciamo, quantomeno, a leggere i valori. In termini di utilità, tutti gli elementi presenti sono utili. Se osserviamo il nostro grafico, sostanzialmente abbiamo alcuni elementi geografici, quindi laghi e fiumi, abbiamo le città principali, abbiamo i confini regionali. Indicativamente possiamo dire che non ci sono elementi sostanzialmente inutili, tra l'altro i colori sono anche molto semplificati, quindi lo sfondo non è particolarmente fastidioso. Quindi, tutti gli elementi sembrano utili. I laghi, domanda, i laghi possono considerarsi inutili? Io non avrei messo laghi e fiumi. Allora, è una scelta, nel senso che ci dà qualche coordinata geografica in più. Distrae, quindi sicuramente quello può essere ambiguo, quindi nella nostra valutazione, esattamente, danno un riferimento per chi ha una vaga conoscenza geografica, quindi andare a vedere il lago di Garda piuttosto che il lago di Como ci permettono di situare meglio gli elementi. Quindi, è veramente una scelta, nel senso che potrei metterli come potrei non metterli, mi lasciarei un po' la sensibilità individuale andare a inserirli. Quindi, danno degli elementi in più, tutto sommato, sono abbastanza tenui, quindi non mi sentirei di dire che sono assolutamente inutili. Però, effettivamente, non sono strettamente necessari. Esattamente, i colori tenui, quindi usando questo grigio di sfondo, che è nettamente diverso dal rosso e dal nero delle bolle, esattamente, sicuramente, non distraggono troppo, ci danno un po' di riferimenti, ma non ci distraggono troppo, esattamente. Quindi, questo è il motivo per cui tenderei a non dichiarli come inutili, ok? Però, nelle note, torno, quindi vado a scrivere, si potrebbe considerare, se eliminare, laghi e fiumi. In generale, è difficile andare a dire se una cosa serve o non serve. Quando andiamo a creare un grafico, dobbiamo fare delle prove e capire se, effettivamente, è utile o meno. Allora, altra domanda, il rosso può dare problemi con il daltonismo? No, in realtà, il daltonismo, comunque, ci sono diverse forme di daltonismo. Diciamo, quella più diffusa porta a non percepire la differenza tra il colore rosso e il colore verde. Quindi, in realtà, il rosso e il verde di per sé non danno problemi. Quindi, non è che non vediamo il rosso, non riusciamo a distinguere dal verde. Per cui, qui non c'è verde, non c'è rischio di avere della confusione. Il resto d'Europa, la domanda, la bolla del resto d'Europa fa riferimento ai morti o ai casi? In realtà, c'è scritto sopra, giustamente, e, altra domanda, il fatto che il grafico sia interattivo è valutato da un punto di vista della chiarezza? Allora, se noi abbiamo a che fare con un grafico interattivo, lo andiamo a valutare in quel modo. Tenete conto che quanto più io riesco ad avere l'informazione immediata senza doverci andare a spostare il mouse sopra, tanto è meglio. Quindi, la proporzionalità probabilmente è un problema, è mitigata dal fatto che comunque io ho la possibilità di andare a vedere i numeri sopra. Però, diciamo che possiamo fare una prima fase di valutazione andando a osservare il grafico in maniera statica, e poi un secondo passaggio andando a vedere se effettivamente l'aspetto interattivo ci può dare delle informazioni aggiuntive. Quindi, prima battuta, guardo l'aspetto statico e dopo vado a osservare invece gli aspetti più dinamici. L'osservazione è giusta, l'interattività ci permette di non affollare troppo il grafico. Esattamente, se noi abbiamo un diagramma statico, fisso, e vogliamo dare dei dettagli ulteriori, dobbiamo per forza andare a mettere i numeri lì vicino. Con un grafico interattivo invece i numeri li possiamo nascondere perché vengono visualizzati nel momento in cui ci spostiamo sopra. Per cui, effettivamente, avendo un grafico interattivo, io posso giocare molto di più su tanti aspetti. Osservazione corretta. Allora, un'altra osservazione che vorrei fare con voi è... non tanto sull'aspetto grafico, poi vi pubblicherò più avanti una lezione su questo e faremo qualche analisi in più, ma sui numeri, ovvero i numeri che vengono riportati sono i numeri dei contagiati. Ecco, questa è una rappresentazione corretta oppure no? Ecco, quei numeri, cioè 59.000 casi, non sono i contagiati, sono i contagi confermati. Purtroppo i contagiati sono molti di più. Se uno è ammalato, chiama il medico di base, il quale gli dice prendi una tecchipirina, stai a casa, non uscire, non frequentare nessuno per un po' di giorni, ecco, quello probabilmente è un contagiato. Ma non avremmo mai la conferma perché magari non gli è stato fatto il test. Quindi, in realtà stiamo attenti a che cosa andiamo a rappresentare. Quindi, il nostro costrutto, ricordate quando abbiamo parlato di misure, il costrutto è l'idea delle persone contagiate, quindi se hanno meno il virus, quello che riusciamo a rappresentare, e che effettivamente l'unica misura che viene raccolta, è chi risulta positivo al test. Quindi, attenzione, perché questo è un aspetto di comprensibilità. Quindi, qui parla di casi totali, in realtà questi sono i casi confermati totali. Purtroppo i casi totali sono molti di più. Quindi, attenzione. Un altro aspetto importante è con che criterio vengono fatti i test sulle persone. In generale, in Italia, possiamo assumere che indicativamente, almeno nelle ultime settimane, il criterio con cui vengono fatti i test sia uguale dappertutto. Quindi, i valori siano confrontabili. Però, non è detto che noi siamo in grado di confrontare i dati italiani con gli altri paesi europei, se gli altri paesi europei usano dei criteri diversi per andare a testare le persone. Quindi, questo non riguarda l'aspetto visuale, ma riguarda sicuramente l'aspetto di dati che sta dietro. Su qui faremo qualche ragionamento poi più avanti. A questo punto, mi sposterei su un secondo grafico. No, questo qua è quello che è stato postato, che è questo. Allora, anche qui utilizziamo lo stesso approccio. Quindi, vado a... Anche qui, proporzionalità, utilità e chiarezza. Commenti? Allora, vado a leggere i commenti che mi avete messo... Aspetta, prima sulla chat e poi su Slack. Allora, il primo chiaramente è proprio sbagliato, nel senso che 24 ore non può essere maggiore di 3 giorni. Ore e giorni non possono essere rappresentati su un unico asse? No, in realtà possono essere rappresentati su un unico asse, perché in realtà sono aggregazioni, livelli diversi, ma della stessa unità di misura. E c'è una trasformazione immediata, quindi semplicemente qua uso un'unità diversa. Quindi come posso andare a rappresentare nello stesso grafico? So, grammi, chili, tonnellate, che apparentemente sono unità diverse, semplicemente perché sono semplicemente dei fattori moltiplicativi. Quindi quello non è un problema, il problema è che qua hanno rappresentato 24 il numero e non il numero di giorni. Le proporzionalità live-factor, corretto. Gli oggetti sul bordo, quindi il cartone, piuttosto che... Quindi questi cartoni, la busta di plastica, l'acciaio e anche le cose qua sotto, sono poco utili. È vero, quindi sostanzialmente quello è un aspetto di utilità e abbiamo un aspetto di live-factor significativo sul primo grafico. Ok, vado a mettervelo direttamente nelle note, così ce l'abbiamo scritto. Quindi, live-factor elevato sul primo grafico, utilità, diciamo, disegni dei materiali poco utili. Aspettate che riapro la chat, così vado a leggere. Allora, la domanda, cioè una domanda che riguarda perché nel secondo grafico si parla di aerosol e poi si parla di superfici? Beh, perché sostanzialmente l'idea è, se io ho un aerosol di particelle che viene depositato su una di queste superfici, quanto dura? Questo è lo studio che è stato fatto. L'osservazione. Le immagini potrebbero essere utili per chi non parla inglese. Sì, è vero. Il problema è che, ad esempio, l'osservazione che mi è sfuggita prima nella chat era, potrebbe essere più utile invece di metterle qui sulla destra, andare a metterle da questa parte, quindi sulla sinistra, quindi vicino alla parola. Questo è vero, potrebbe aiutare chi non capisce bene l'inglese. È chiaro che, se andiamo a vedere nel diagramma di sotto, l'aria, onestamente mi sembra difficile da capire, a me sembra una macchia, e questa pila di monete, di nuovo, è difficile da capire. Ci sono alcune moletine piccole che hanno una componente in rame, quindi quello potrebbe essere intuitivo, però legare questo al rame è decisamente difficile. La tazza qua in acciaio, di nuovo, non è molto facile. La busta di plastica, questo probabilmente è più facile da comprendere. Probabilmente l'hanno fatto molto alla veloce, infatti l'errore del primo grafico è chiaramente dettato da, probabilmente da fretta, e qui hanno preso le prime immagini che gli sono capitate su Google Images, probabilmente. Anche il polipropilene, diciamo che indica una plastica, quindi il polipropilene è la plastica che viene utilizzata di solito per gli involucri, quindi anche non conoscendo il nome esatto del tipo di plastica potrebbe essere intuitivo, però in generale ci danno un'idea molto, 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 molto vaga. Quindi concordo che potrebbero essere utili, quindi scrivo nelle note, quindi in generale potrebbero aiutare se non si comprende bene la lingua. Ok? Allora, è anche vero che se non si comprende bene la lingua, uno potrebbe, allora, scusate, vado qua, se non si comprende bene la lingua, uno potrebbe anche andare a recuperare, allora, qui vedo anche dei redesign, ecco, scusate, vado a prendere questo che poteva essere interessante, allora, se non si comprende bene la lingua, tendenzialmente uno va a utilizzare qualcosa di diverso. Qui, acciaio inossidabile, plastica e cartone, di nuovo, sono rappresentati in maniera diversa. Mi soffermo un attimo su questo. Allora, questo sostanzialmente non è una visualizzazione di dati, questo è uno schema in cui sono riportati dei valori numerici. Ok? Quindi non c'è nessuna codifica dei valori in un qualunque attributo grafico, posizione, lunghezza, area o altro. Ok? Quindi è un tipo di visualizzazione molto generale, non è un grafico, quindi noi tendenzialmente cerchiamo di andare a utilizzare quei principi più che altro per i grafici. Ok? Questo si può rivedere e si può rappresentare come un grafico, però forse qua. Questo è un esempio di visualizzazione in cui invece vado a codificare le ore di dimezzamento e di completo abbattimento su un grafico e a questo punto la posizione dei punti è codificata lungo una scala. Ok? Quindi questo è un grafico che rappresenta gli stessi dati che erano rappresentati prima. Ok? Allora, scusate, torno sulla chat. Possiamo chiamarlo infografica, diciamo che va di moda come termine il termine infografica. Ok? Quindi è una rappresentazione grafica che riporta delle informazioni. Ok? Adesso vi propongo un altro grafico che è questo qua. Questo, di nuovo, vi ringrazio perché mi avete mandato un sacco di link, diciamo un po' tutti monotematici, però siamo tutti focalizzati sull'argomento in questo momento, però almeno abbiamo la possibilità di vedere tante cose abbastanza diverse e poterle valutare. Allora, io focalizzerei l'attenzione su questo diagramma centrale. Scusate, eccoci qua. Prima domanda. Allora, scusatemi, giustamente, mi fanno osservare che sul grafico di prima non abbiamo analizzato la chiarezza. Allora, in termini di chiarezza, gli elementi di supporto ci permettono di comprendere meglio? Allora, i valori che vengono riportati qua, quindi le 24 ore, più lunghe delle 3 ore, dei 3 giorni, eccetera, sono sicuramente utili perché probabilmente su questa scala non li leggiamo bene, per cui ci danno un modo alternativo di andare a leggere i dati. La scala è sicuramente utile perché ci permette di avere una valutazione quantitativa e è ovvio che questi sarebbero molto più lunghi, quindi 3 giorni dovrebbero essere, se li esprimiamo in ore, un po' più lunghi, quindi abbiamo 72 ore. Se li esprimiamo in giorni, questo è 1 e questi sono 3, quindi la scala sarebbe comunque utile per andare a darci un'idea. Qui sotto pure, qui abbiamo le etichette, la lunghezza della barra e la scala. Quindi, in generale, direi che in termini di chiarezza è ragionevole, ci sono tutti gli elementi. Quindi, sostanzialmente, è ok in termini di chiarezza. Torniamo a questo diagramma. Allora, commento generale. Abbiamo visto un diagramma a bolle prima, vediamo questo. Perché vengono utilizzati? Perché sostanzialmente quando io ho un'area geografica non ho tanti modi per andare a rappresentare dei valori quantitativi che io associo a quelle aree geografiche. Ok? O elenco i nomi delle regioni, metto di fianco una barra, un punto, comunque qualunque altro tipo di rappresentazione, oppure devo andare a mettere qualche cosa che io possa andare a posizionare in punti diversi. Ora, è ovvio che io potrei andare a mettere delle barre di altezza diversa, però barre sparse in giro per un grafico che non hanno una base comune sono molto difficili da valutare. Mettere delle bolle va bene, perché in realtà le bolle piacciono a tutti, in più ci dà una possibilità di andare a valutare delle quantità, pur mantenendo i limiti di percezione che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato più volte. Allora, domanda. Si potrebbe usare una scala di luminosità colorando la regione? Eh sì, questo è l'altro modo che sostanzialmente può essere fatto. Quindi vado a codificare i valori in termini di, diciamo, saturazione e luminosità, perché di solito vengono combinati, perché così sono più facilmente distinguibili, e quindi posso andare a fare un'operazione di quel tipo. Quello è un altro modo. E' chiaro che mentre sulle aree io non riesco a percepire in maniera precisa un rapporto tra le aree, però una vaga idea me la riesco a fare, quando ho dei colori, ecco, sui colori onestamente non so dire qual è il rapporto tra un rosso più intenso e un rosso meno intenso. Quindi, se mi interessa semplicemente l'ordine, quindi sapere chi è più grande e chi è più piccolo, probabilmente il colore, in termini di intensità e saturazione, può essere più immediato. Se voglio dare una qualche misura di rapporto, ecco, probabilmente è difficile non usare una rappresentazione di questo tipo. Tornando al grafico in questione, ecco, se noi andiamo a osservare le due bolle, io vi ho già zoomato qua, le due bolle che riguardano Piemonte e Lombardia, ecco, e se leggiamo i numeri, 4 a 27, vi sembra un rapporto corretto? Ok, quindi è 1 a 7. E' chiaro che non c'è nessuna proporzionalità. Ok, quindi c'è qualche errore. Se andiamo a vedere i 1000 della Liguria e i 4000 del Piemonte, nuovo probabilmente non è corretto. Questo 7000 è leggermente più grande del 4000, però dovrebbe essere probabilmente un po' meno del doppio. Ok, quindi è probabile che qua ci sia qualche errore di proporzionalità. Non so come hanno calcolato le dimensioni, però decisamente è un problema. Quando ci sono le bolle, alcuni errori tipici sono quelli di andare a rendere non l'area proporzionale, ma bensì il diametro. E' chiaro che c'è un quadrato di mezzo, ok, passando da uno all'altro, e quindi posso avere un'alterazione. quindi mappa online protezione civile di nuovo proporzionalità diciamo diciamo errata c'è un grosso high factor e per quanto riguarda l'utilità che elementi abbiamo in questo diagramma? Sostanzialmente abbiamo elementi abbastanza utili, nel senso che abbiamo qui degli elementi che permettono di andare a modificare la mappa, abbiamo i confini, ecco, in questo caso non abbiamo i laghi e fiumi, i confini sono un po' più visibili e quindi ci permettono di andare a identificare meglio gli elementi, nell'altra mappa si contava di più sui aspetti, diciamo, di geografia fisica, qui geografia politica, per cui riesco abbastanza a piazzarli. sostanzialmente non vedo elementi estranei, qui c'è un'indicazione, in basso c'è un'indicazione che però riguarda il software che viene utilizzato per andare a generare tutto, quindi direi che gli elementi sono abbastanza utili, ok? una cosa che noi potremmo omettere probabilmente sono i nomi delle regioni, ok? quindi potenzialmente potremmo omettere i nomi delle regioni, nel senso che si suppone che, quantomeno un italiano che guarda la mappa, sape distinguere il Piemonte dalla Lombardia, il fatto che qui vengano riportati poi in maniera separata i dati di Trento e di Bolzano, ecco questo è un fatto particolare, per cui magari il Trentino d'Alto Adige è più difficile da leggere, però in generale potremmo tranquillamente ometterli. Scusate, ritorno sulla chat. Allora, l'osservazione è che alcuni elementi geografici si possono omettere esattamente, che è quello che stavo indicando, il fatto che si chiama il Golfo di Genova, piuttosto che il Mar Ligure, anche quelli sono aspetti che noi potremmo omettere. Non viene specificato cosa indica il numero, in realtà questo è un aspetto non tanto di utilità, ma piuttosto di chiarezza. Anche qui, di nuovo, adesso ho zoomato sulla mappa, anche qui potremmo andare a sfruttare il colore, e quindi questo lo rapportiamo con il numero di casi positivi confermati. Ok, però un'etichetta che dica che questi sono i casi confermati potrebbe essere utile. Quindi direi, allora lo vado ad aggiungere di qua, quindi potremmo omettere i nomi delle regioni, i nomi dei mari anche non sono molto utili, non necessari, la chiarezza, quindi abbiamo detto che non è indicata la misura rappresentata, ed è sostanzialmente quello che è il problema principale in questo grafico. Ok, altre osservazioni? Allora, c'è la leggenda, ma spunta soltanto se si clicca, eccola qua, quindi andando a cliccare, diciamo che questa leggenda è un po' meno graficamente curata dell'altra, però diciamo che ci dà ci dà i dettagli. Ok, quindi casi totali. Ok, però di nuovo, come ragionavamo nel caso precedente, in generale noi la prima valutazione la facciamo in termini di visualizzazione statica, quindi senza andare a interagire con il grafico, dopodiché andiamo a vedere se effettivamente alcuni aspetti magari di scarsa chiarezza possono essere colmati dall'interattività. Abbiamo poi anche la possibilità di andare a livello di provincia, ecco qua, ma abbiamo un grosso problema di chiarezza. è impossibile andare a distinguere una bolla dall'altra. È chiaro che se io voglio andare a livello di provincia probabilmente mi sposto così. Ecco, in questo caso riesco a vederlo, ma appena riduco un po' la distanza, quindi se voglio avere ad esempio tutto il nodo Italia sott'occhio, vedete che le bolle sono estremamente sovrapposte l'una all'altra, quindi difficilmente leggibili. Ok? Ok, così. Allora, altra osservazione corretta, in questo caso, visto che i dati sono esclusivamente italiani, è stata messa chiaramente in evidenza il fatto che l'area a cui si applicano le misure è d'Italia, e questo sicuramente è un aspetto di chiarezza positivo, senz'altro. Quindi, in questo caso, abbiamo dei problemi di chiarezza, soprattutto se facciamo riferimento, quindi, a livello di provincia, le bolle sono sovrapposte. probabilmente andrebbero scalate un pochettino di più, quindi ridotte maggiormente, invece di essere mantenute così grandi. ok, altre osservazioni? ok, ok, allora, a questo punto vi propongo un altro grafico, anche questo è stato è stato riportato sul canale random, in realtà questo è il è il sito da cui è preso quel grafico, è il financial time, in cui il grafico in realtà era questo qua, che andava a rappresentare il numero di casi confermati. Allora, vi faccio vedere, vi faccio notare che in questo caso, il nome, scusate, l'etichetta che c'è qua è casi confermati. ok, è interessante la scelta anche delle unità di misura. Allora, qui sull'asse delle scisse abbiamo sostanzialmente il numero di giorni passati dopo il centesimo caso. ok, perché se noi andassimo a considerare i primi casi, probabilmente la crescita sarebbe molto piatta inizialmente, ok, e soprattutto andrebbe a oscurare tutto il resto della dinamica. Altro aspetto interessante è Allora, scusate, mi era sfuggito un'osservazione precedente sul fatto dei del numero di morti che segue i colori della bandiera. Ah, verde, bianco e rosso. non so se l'hanno fatto di proposito o è successo per caso, però onestamente non l'avevo notato. Allora, esattamente, allora, l'ultima osservazione è quello su cui stavo per attirare la vostra attenzione, è il fatto che qua sull'asse verticale è stata utilizzata una scala logaritmica. Ok? Il che vuol dire che 50.000 e 20.000 non hanno la stessa distanza lineare di 20.000 e 10.000 ma in realtà salgono come esponenti. allora, la scala logaritmica ha diversi aspetti interessanti, ne parlo poi nella prossima lezione che vi pubblico sugli elementi di supporto nella costruzione dei grafici. Allora, se io non mettessi la scala logaritmica probabilmente andiamo a prendere questi valori alti, quindi Stati Uniti, Spagna, Italia e Cina che sono oltre, sono diciamo intorno ai 50.000 casi, diciamo dai 30 ai 50.000 casi, 50-70.000 casi, rispetto a, che so, il Giappone che ne ha mille, capite che la distanza che avremmo nel grafico sarebbe molto espansa, quindi avremmo tutti questi fino a 5.000 schiacciati in basso e gli altri che sono sostanzialmente 15-20 volte più alti. la scala logaritmica mi permette di andare a mantenere vicini valori molto piccoli e valori molto grandi che altrimenti sarebbero estremamente distanziati e quelli molto piccoli sarebbero tutti schiacciati tra di loro e quelli molto grandi molto più sparsi perché chiaramente l'Italia che è poco sopra 50.000 rispetto alla Cina che è a 75.000 in una scala lineare sarebbero molto distanziati quindi l'uso della scala logaritmica è giustificato da questo un altro aspetto interessante è che la scala logaritmica ha il grosso vantaggio di rappresentare in maniera diciamo così lineare una percentuale di crescita costante infatti se vedete questa linea tratteggiata diagonale 33% di incremento giornaliero mi permette di andare a disegnarla come una riga e quindi chi sta su questa riga per cui buona parte delle crescite stanno intorno a questo percentuale vuol dire che ogni giorno aumenta di un terzo se io lo rappresentassi su una scala lineare avrei un andamento esponenziale quindi un po' come il diagramma che vediamo qua dei positivi vedete che inizia a crescere sempre di più ok qui io non vedo il fatto che il tasso di aumento è una percentuale costante mentre invece in questo caso il fatto che sia sostanzialmente allineato e poi in realtà scende per fortuna vuol dire che ogni giorno la percentuale di aumento è sempre la stessa attenzione che la percentuale di aumento non è la stessa cosa che era un aumento di una quantità fissa quindi il vantaggio di una scala logaritmica è che la percentuale di incremento che probabilmente è più significativa in una situazione di esplosione di un'epidemia piuttosto che andare a vedere la variazione in termini di numeri assoluti viene rappresentata in maniera semplice e lineare quindi ha questi aspetti è ovvio che noi da un punto di vista di comprensione facciamo un po' più fatica a andare a leggere la scala logaritmica rispetto a una scala lineare per cui l'Iran è poco sopra 20.000 l'Italia è poco sopra 50.000 però sono molto distanti mentre invece in una scala lineare sarebbero distanti tanto quanto l'Italia e la Cina quindi facciamo un po' fatica ma indicativamente ci permette di andare a rappresentare altri aspetti interessanti ad esempio la crescita percentuale costante e di mantenere di riuscire a vedere abbastanza separati anche valori molto bassi che sarebbero schiacciati tra di loro allora osservazione le linee sono poco distinguibili è vero perché sono rappresentate tutte l'aspetto positivo è che qui tante linee sono rappresentate in grigio e colorati quindi quelle colorate sono poche e quindi tendenzialmente quelle riusciamo a vederle abbastanza bene non è interattivo quindi non riusciamo a isolare una singola un singolo paese è vero qui un uso di un grafico interattivo sarebbe stato molto interessante avrebbe potuto dare delle informazioni in più ci avrebbe permesso di andare a vedere nel dettaglio un singolo paese rispetto a tutti gli altri la domanda successiva è se quando abbiamo a che fare con un'epidemia è bene utilizzare una scala logaritmica non necessariamente allora non sono un esperto di epidemiologia però in questo momento l'espansione che abbiamo è sostanzialmente un fattore moltiplicativo rispetto ai contagiati precedenti quindi indicativamente io moltiplico ho una percentuale di incremento quando l'aumento è legato così a una percentuale e non è legato a un tasso fisso quindi un incremento fisso di un'unità un certo numero di unità giornaliere sicuramente l'organitmo è più naturale e comunque ci permette di vedere il tasso di crescita che varia o meno altra osservazione probabilmente avrei potuto evitare di sovrapporre punti e linee effettivamente sui dati intermedi questo si poteva evitare quindi sarebbe stato un po' più leggibile quindi avrebbe disturbato meno il grafico quindi quello potrebbe essere un aspetto di utilità che effettivamente potrebbe essere rimosso uso di colori uguali identici per una serie di paesi diversi stiamo parlando di questi qua in basso quindi Corea Giappone Singapore Hong Kong si può essere un problema probabilmente li ha voluti raggruppare perché questi sono i paesi asiatici mentre invece ha voluto distinguere chiaramente i paesi occidentali il fatto che comunque siano abbastanza distanti e che comunque ci sia un'etichetta vicina quindi il principio di prossimità tutto sommato ci permette di non confonderci in ogni caso nella parte bassa del grafico quindi in basso a sinistra è difficile andare a distinguere una riga dall'altra l'interattività come osservava qualcuno prima potrebbe essere utile allora osservazione nella pagina scendendo ci sono i dettagli dei singoli paesi ecco in questi grafici sotto in realtà questa è tutta un'altra serie di grafici questi sono tanti grafici in cui andiamo a vedere rispetto a alcuni paesi vedete che qui sono marcate Hong Kong UK e Italia la Cina ormai viene data come fuori e quindi è meno interessante andiamo a vedere in confronto a tutti i paesi quindi grigio più chiaro vi vado a prendere uno qui si vede non so la Repubblica cieca che è comunque un po' più avanti ok Italia UK e Hong Kong sono le tre linee grigie un po' più scure le altre grigie molto più tenue sono gli altri paesi di cui abbiamo i dati invece la riga spessa rossa è data dal paese che stiamo andando a osservare e quindi possiamo andare ad apprezzare chiaramente l'andamento di quello specifico paese rispetto all'andamento generale questa tecnica che vediamo qua è una tecnica che si chiama dei piccoli multipli quindi invece di avere un unico graficone come questo sopra in cui metto tutti i dati assieme ne ho tanti in cui metto chiaramente in evidenza un singolo dato quindi un singolo paese per volta poi per avere un riferimento riporto sotto ma quindi in maniera molto più tenue meno evidente i dati degli altri che sono ovviamente indistinguibili tranne forse i primi te di riferimento in questo modo io riesco a dare enfasi e osservare bene i dati di singoli paesi per cui in generale una raccomandazione è invece di andare a utilizzare tanti dati nello stesso grafico è meglio andare a separare i dati e metterne uno per ogni grafico ovviamente il tutto ha senso se noi andiamo a mantenere l'asse verticale e l'asse orizzontale uguali per tutti i multipli altrimenti non riusciamo a fare i confronti ok altre osservazioni ok ho visto che poi avete scritto un sacco sulla su su slack vado poi a leggermi nel dettaglio tutto volevo prima commentare con voi in generale gli aspetti più più generali vado poi a leggermi tutto con calma e quindi vi cerco di darvi un po' una risposta individuale e commentando quello che avete detto a questo punto vorrei spendere qualche minuto per riepilogare alcuni aspetti importanti delle ultime lezioni che vi ho pubblicato quindi se l'avete già guardate magari poi mi fate le domande se no è giusto per darvi gli highlight e quindi gli aspetti più importanti a cui fare attenzione successivamente allora quindi rieccoci qua vi condivido le slide che riguardano l'ultimo insieme di lezioni che vi ho pubblicato allora nelle ultime lezioni quello il tema che ho affrontato è quello di come è possibile andare a scusate come è possibile andare a rappresentare alcune relazioni utilizzando dei grafici in generale questa potete prendere come una specie di linea guida ovviamente limitata e ridotta perché io non ho il tempo di andare a esaminare tutti i tipi possibili dei grafici vi riepilogo quelli principali andando a commentare un po' gli aspetti più significativi quali sono gli aspetti da andare a considerare all'interno di un grafico beh sostanzialmente allora all'interno di un'unica categoria noi abbiamo tante misure che fanno riferimento a diversi elementi quindi diversi livelli di questa categoria e quindi io posso andare a fare quello che è un confronto semplice un confronto utilizzando una graduatoria oppure dei rapporti parte e tutto quindi andare a vedere come un tutto si suddivise tra le varie parti o più in generale andare a vedere come tanti valori si distribuiscono quindi qual è la loro frequenza quando ho più misure posso andare a fare tanti grafici diversi per cui posso andare in generale a vedere la correlazione se una delle misure in questione è una misura di tempo o quelle che si chiamano le serie temporali quindi posso andare a visualizzarle seguendo alcuni principi base e posso anche andare a osservare qual è la deviazione di un insieme di valori tra valori diversi o da un valore all'altro velocemente quando ho un confronto nominale di solito un approccio molto semplice così di utilizzare un diagramma a barre ricordatevi che i diagrammi a barre tendenzialmente quando hanno delle etichette lunghe relativamente ai diversi valori di una categoria sono preferibilmente da rappresentare in orizzontale altrimenti mi ritrovo delle scritte che sono verticali quindi sono difficili da leggere in orizzontale invece riesco a leggerle benissimo e ho tutto lo spazio per rappresentarle ricordiamoci di non andare a tagliare la base per enfatizzare le differenze perché se non introduciamo un life factor estremo se vogliamo andare a enfatizzare le differenze è quello che possiamo andare a fare è ad esempio andare a utilizzare dei punti ok quindi questo è un esempio di un confronto utilizzando dei punti posso aggiungere delle informazioni quindi andare a mettere i nomi i valori ma sostanzialmente quello è un altro modo è quello di andare a utilizzare quello che si chiama uno strip plot ovvero vado a mettere su un'unica striscia i miei punti più o meno grandi quindi ho messo abbastanza grandi volendo non potevo metterli più piccoli e andando a mettere un'etichetta vicino a ogni punto per andare a rappresentare quelli che sono i valori ok questo è probabilmente la rappresentazione più semplice di come posso andare a confrontare diversi valori per le bolle ovviamente qui ho dei problemi di 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 leggibilità più interessante quando io il confronto lo faccio andando a considerare una graduatoria per cui in questo caso specifico ho tutte le mie regioni i dati sono sempre quelli soliti di affluenza elettorale nelle elezioni del 2018 partendo da quelle con l'affluenza più alta fino a quelle con l'affluenza più bassa anche qui posso avere delle difficoltà andando a confrontare valori che sono molto simili per cui quello che posso fare è andare a utilizzare anche qui dei punti e qui riesco ad apprezzare meglio quelle che sono le differenze posso utilizzare una variante che si chiama lollipop in cui ho questo trattino però qui ho una doppia codifica sia della posizione che della lunghezza del trattino e quindi è preferibile quando uso un lollipop avere una base zero posso andare a parlare di deviazione e quindi andare a considerare come un certo valore devia rispetto ad alcune zone o punti di riferimento questo è una rappresentazione classica di un tachimetro che ovviamente occupa un sacco di spazio ed è difficile da confrontare molto meglio è quello che è un bullet guide in cui ho il valore rappresentato come una barra o lo sfondo che mi dà il riferimento in più posso avere un altro punto di riferimento che è dato da questo trattino verticale il vantaggio del bullet graph è che io li posso impaccare in maniera molto compatta andando andando a occupare poco spazio un caso molto particolare che possiamo avere quando io voglio andare a fare una deviazione tra un prima e un dopo oppure con o senza un trattamento posso utilizzare quello che è un grafico a pendenza in cui vedo chiaramente l'entità e la direzione della variazione è difficile andare a dare un rapporto chiaro ma posso andare a capire che il trattino alto adige ha avuto una variazione più significativa rispetto all'Emilia Romagna e che la basilicata ha avuto invece una variazione positiva posso utilizzare dei dumbbell plot questo è una versione non ordinata la posso anche fare ordinata andando a mettere ad esempio le picchette vicino alla coppia di valori quando vado a rappresentare delle relazioni parte tutto posso utilizzare tante diverse varianti una cosa che posso utilizzare è un diagramma a barre una sopra l'altra o una di fianco all'altra se orizzontale avendo una scala riesco più o meno a leggerli ma ho qualche difficoltà vi salto tutte le altre considerazioni e vado a direttamente parlarvi dei diagrammi a torta che ovviamente hanno dei grossi problemi in termini di leggibilità se io ho pochi valori da rappresentare allora riesco a comprenderli abbastanza facilmente il problema è se ho dei valori decisamente piccoli come questi è difficile andare a dire che questo è un 2,5% e non piuttosto un 5 quindi in generale va bene se i valori sono abbastanza diversi non troppo piccoli e sono pochi l'esempio che vi ho fatto vedere nella lezione è quello in cui ho tre varianti diverse devo capire qual è la sezione più ampia tra le 5 rappresentate e qui ovviamente è molto difficile utilizzando delle torte ma invece è immediato utilizzando un diagramma a barre quando parliamo di distribuzioni di solito possiamo andare a utilizzare degli histogrammi qualcosa che sicuramente avete visto in tanti altri corsi utilizzato per tanti altri scopi attenzione quando utilizzate un histogramma perché il numero di bin in cui vado a soddisfidere l'intervallo in cui può cadere il valore mi può dare dei risultati molto diversi questi sono tre histogrammi che fanno riferimento esattamente agli stessi dati che cosa cambia l'ampiezza dei bin quindi attenzione quando li scegliete perché altrimenti potete avere dei risultati diciamo poco significativi anche il poligono di frequenza è interessante un diagramma che vi ho riportato è quello che si chiama box plot che è molto sintetico e poco dispersivo quindi ci permette di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali dove sta il grosso dei valori quanto è ampia la distribuzione dei dati la variante un po' più sofisticata è il violin plot è chiaro che qui siamo un po' più distratti da quelli che sono i dettagli della distribuzione il box plot è molto più sintetico possiamo combinarli e possiamo andare a utilizzarli per andare a fare a confrontare diverse distribuzioni infine adesso vi salto un po' di esempi quando ho a che fare con delle serie temporali quello che normalmente si fa è andare a rappresentarli con delle linee i puntini esattamente come nell'esempio che stavamo vedendo un attimo fa li posso mettere se voglio attirare l'attenzione sui singoli valori se i valori sono tanti e non mi interessa andare a vedere il singolo valore ma la tendenza generale allora conviene andare a eliminare questi punti dipende dall'obiettivo che voglio avere tendenza generale oppure più enfasi su quelli che sono i singoli punti è ovvio che io posso utilizzare anche un diagramma barre il problema è che su un diagramma barre faccio molta più fatica a vedere e apprezzare quello che è l'andamento generale che invece apprezzo molto bene in diagramma linea quando ho a che fare con la correlazione quello che faccio è di utilizzare dei punti eventualmente andando a aggiungere delle linee ad esempio di tendenza o delle linee di riferimento come nel caso precedente con la linea che indicava l'andamento della crescita del 33% ok questa era una sintesi ultra veloce degli aspetti più interessanti delle lezioni sulla costruzione di grafici vi pubblico a breve un'altra lezione che riguarda invece tutti gli elementi che non abbiamo ancora su cui non abbiamo focalizzato l'attenzione cioè tutti gli elementi di supporto che stanno a contorno del grafico ad esempio gli assi le leggende e tutti gli elementi aggiuntivi a questo punto vi chiedo se avete domande su questa parte su queste lezioni se non le avete adesso ovviamente potete fare tranquillamente anche su Slack dove cercherò di chiarire il prima possibile appena ci sono se non ci sono domande su questa parte vi raccomando di guardarla perché poi vi serve per andare a costruire i grafici in maniera opportuna direi che possiamo chiudere questa lezione e a questo punto la prossima lezione sarà giovedì in cui ci sarà sostanzialmente il primo laboratorio a breve vi metto un video di Diego Monti che è l'agitatore che curerà la parte di laboratorio in cui vi presenta il laboratorio e le procedure legate all'uso degli strumenti che servono per andare a svolgere il laboratorio ovviamente se avete domande sulle procedure e quant'altro all'esterno delle lezioni Slack è sempre a disposizione quindi io cerco di rispondere il prima possibile quindi con un tempo di reazione limitato non vedo domande su questi argomenti quindi a questo punto direi che chiudiamo la lezione grazie a tutti buono studio e a risentirci se non con me con Diego Monti giovedì pomeriggio arrivederci grazie a tutti grazie a tutti